Geremia! Ehi! Geremia! Sì! Cercavo proprio te! Il cane che mi hai venduto ieri è morto! È morto? Sì! Due anni l'ho tenuto! Ma è strano, con me non l'ha mai fatto! E' vero! È strano questo... Giudice, mai, in due anni mai è successa una cosa del genere, credimi! Ma che faccia, eh! E' morto! Fammi saperselo, fa di nuovo! Ma è strano proprio, due anni! Mai, mai proprio! Strano!